E bentornati ragazzi in un nuovissimo video, oggi siamo ritornati finalmente, 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 su Minecraft Oggi però andremo in una specie di vanilla più o meno, cioè di una sopravvivenza su un mondo vecchio Cioè un mondo piccolino, non so esattamente, non ho mai provato il mondo vecchio Però, beh sono saltato, sono spaventato, è venuto un colpo Però andiamo a provare questo mondo vecchio, come prima cosa andiamo subito a farci una casetta Allora troviamo un posto bello, farci la casetta, no dai sono spaventato nella foresta No dai vabbè, ce la facciamo sopra un albero, perché no? Sì perché non ce la facevo sopra un albero? No sì no sarebbe bellissimo se me la faccio sopra un albero Sì dai basta che non rompo le scatole all'albero, cioè dico rompo il legno Ok allora rompiamo un po' di foglie sperando che non le perda Perché se costruisco sopra le perdo le foglie? Paura, cioè un po' paura, non lo so eh Ragazzi io non lo so Vabbè dai costruiamo la casa Oh ok la mia bella casetta sull'albero Abbastanza carina, ci ho messo una vita E devo dire che è bella dai Vediamo un po', qua c'è tutto per scendere, sembra abbastanza tutto a posto Qua c'è stato l'intervento della creativa Porca miseria mi sono dimenticato Ma comunque ho fatto tutto, cioè devo dire sì è stato tutto a posto Cioè è un mondo vecchio, l'ho esplorato un po' tutto, cioè di là c'è il bioma della neve Però beh sembra un po' tranquillo anche, cioè devo dire che sembra tranquillo come mondo Boh non lo so Qua c'è stato l'intervento della creativa Mi sono spaventato un attimo C'è stato l'intervento della creativa col barrier perché non ci avevo voglia Ma vabbè dai, tutto a posto Non ho ancora trovato i letti adesso che ci penso, cioè sono un po' a giro però non trovo niente Vabbè vediamo come posso continuare Potete scrivermi nei commenti come posso sopravvivere in un mondo vecchio Cosa si dovrebbe fare nella sopravvivenza, dai Ci ho messo un po' Ma comunque sì sono riuscito a fare il letto Ne ho fatti due Oh ecco qua, i miei due bellissimi letti Allora, sta diventando notte, di nuovo, per la quintissima volta E va bene, allora aspettiamo che diventa notte Tramonto, dov'è il tramonto? Mi sono buggato un attimo Ecco che bello il tramonto, bello, il bello, il bellissimo tramonto Oh, che bello il tramonto Tramonto, vabbè dai sì, porca miseria, cosa sto sempre lì a... Sono sempre preso dal tramonto La luna, sta uscendo la luna Beh, devo dire che una delle migliori sopravvivenze abbia mai fatto Devo dire, fare la casa sull'albero è bello, è stato bello L'unica cosa è che ho paura che cominci a perdere le foglie Ma vabbè dai, tutto a posto Ok, fantastico, è giorno E andiamo, non so, mi sa che conviene andare a esplorare Un pochino Come un'impressione No, vabbè Muori Oh, porca, non è morta Porca miseria, c'è soltanto la spada in pietra io Porca miseria Oh, va bene, allora Io direi di esplorare un pochino Possiamo andare nella montagna Là non sono ancora andato a vedere la montagna, eh, devo dire Ok, possiamo andare Oddio Aspetta, aspetta Combinazione, volevo andare nelle montagne e c'è qualcosa nella montagna Oddio Andiamo a vedere un attimo che non sia una mucca, se no Ho visto qualcosa di strano Qualcosa di strano c'è Qualcosa di strano c'è Cos'è quella roba lì? Oh, santo Oddio Cos'è quella roba? Oddio Fuga Oh, no, 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 no Ce l'ho ancora alle spalle? Oh, santo Cristo Chi è? Cos'è quella roba? Pollo, scappa Oddio Oddio Oddio, aiuto 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 Oh, no, 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 no Aiuto, aiuto Ho paura Oddio, cos'è quella roba? Cos'è? Ossè minata? Oh, santo Cos'è altri cuori? Sono ammazzato da solo Cos'era? Ho paura di tornare a casa Oh, santo Cos'era quella roba Allora Un pochino di coraggio Dai Nino scusa Porca miseria Parkour che schifo Quella roba cos'era non lo so Oddio Ho paura In questi momenti sto avendo un po' di paura Ok voglio tornare soltanto a casa adesso Allora prendiamo un po' di legna Ce l'ascia che scemo Prendiamo la legna e torniamocene a casa Prendiamo un po' di blocchi e saliamo dal tetto Ok Mangiamo Porca miseria Posso fare un po' di legna Dai Shiftiamo non lo so Perché quello non è un player Se shifto mica mi vede il nome Basta che mi vede Mi fa fuori Porca miseria ma cos'è Che spavento Ah lì c'è del ferro Allora mi sa che devo domesticare un cane Cane attacca C'è un lupo per ora Porca miseria Oddio che paura Che paura Cos'è quella Ah è un pollo Mi sono spaventato Ok Io sto Porca miseria sto rimanendo pochi blocchi Facciamo così Direttamente Facciamo Tarzan Oh Porca miseria stavo cadendo eh Devo dire Ok Non sembra più qui Porca miseria mi sono spaventato però Cos'era quella roba Non si riesco a fare il suo salto eh Oh Madonna Che salto bello Fatto Ma dai Ok Ah Devo dire sono bravo nel parkour Porca miseria Però Sto facendo tutti i complimenti Ma dov'è quella roba Oddio Madonna io Sto Me la sto facendo sotto Cos'era poi quella roba Oddio Allora vai Torniamocene a casa Pian pianino Oddio Oddio Eccolo Eccolo Non mi avrà visto vero Oddio sì che mi hai visto Oh no 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 Stai là Stai là tu Porca miseria Cos'è quella roba Aiuto Per fortuna Ha tolto il volume Aspetta Se n'è andato Se n'è andato Se n'è andato Se n'è andato il coso Per fortuna ha tolto il volume Per fortuna No 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 Se voi avreste sentito quello che ho sentito Disgraziato Quello ammazza i polli Quel cosa ammazza i polli Oh no 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 Sono caduto in un posto Basso Due cuori Mezzo cuore Mezzo cuore Oddio Doriamocene a cazzo Assolutamente E qua come scendo Non è qui Oddio Mi sono veramente Oddio 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 Sto spaventando da morire Oh cavolo Oh cavolo 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 Allora io vado con mezzo cuore A vedere Che cos'è E poi se E se fa male Magari Magari E' una persona Amichevole Ma che è amichevole Poi c'ho mezzo cuore Cioè non me ne frega Vediamo se Dov'è Ehi là Mostro titano Quel che sei Sto morendo di paura Eh ragazzi Madonna Non ho parole Oddio Dov'è Oddio c'è il pollo qui Dov'è Eccolo Madonna che urli Che fa quel cos' Ehm Buongiorno Ehm Ci conosciamo Oddio Non sembra Per niente Amichevole Quella roba Ehm Non è amichevole Assolutamente Oh mio dio 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 Devo 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 equipaggiarmi Devo ammazzarlo Quella roba Devo ammazzarlo Immediatamente Devo equipaggiarmi Come dice il buon vecchio proverbio Mali estremi Estremi rimedi È il momento Di farlo fuori A mali estremi Estremi rimedi Come dice bene Il nostro Un vecchio proverbio Prendiamoci tutti i colpi E andiamo All'attacco Quel maledetto Non può stare in questo mondo Questo è il mio mondo È questo? Sono questi i colpi? Vediamo? No? Aspetta forse sì Ah sì è questo È questo È questo Ok Siamo pronti Allora ci prendiamo il cecchino Poi vediamo Ci prendiamo Vediamo Cosa ci prendiamo? Una bella Vediamo 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 C'è lo scar Scar Vediamo lo scar Scar Aspetta cerchiamolo Vediamo Scar Eccolo qua Bene Colpi dello scar Com'è che si chiama? 20RND Ok aspetta No perché ho schiacciato 20 Aspetta eh Ok Allora 20 Porca miseria Ok allora Sono abbastanza equipaggiato Allora Togliamo questo Allora Fantastico Allora carichiamo questa E carichiamo questa E anche Dovrei caricare anche lo scar Ho sbagliato i colpi Mi sono sbagliato i colpi Va bene Vabbè che ci posso fare Ci posso fare niente Porca miseria Ho sbagliato Ah è notte È notte Sarebbe il momento di attaccare Secondo voi Non lo so Però quel Quel tizio Veramente No io andrei a dormire Io preferisco attaccare di giorno Non posso Attaccarlo Di notte Ah ok Mi sono preso pure i colpi Dello scar Fantastico Scar Eh Vecoso Non lo so esattamente Una specie di cecchino Due cecchini Il famosissimo Scar Andiamo a caccia Allora Dov'è quel miserabile Allora Aspetta Porca miseria Ho paura di scendere Andiamo Non devo avere paura Dov'è Adesso che ci penso Non ho un'armatura Cioè quello mi fa secco In poco tempo Allora Non so se andare Era meglio andare dagli alberi Secondo me Eh Credo è meglio andare dagli alberi Sì sì Passiamo dagli alberi Porca miseria Bene Andiamo Andiamo di armi Così Ok Speriamo di non trovarlo subito Porca miseria Oh che paura Vediamo Vediamo Qua non c'è niente Dov'è? Ah mi sono spaventato Capra Eh Mi Che cavolo Allora Facciamo Porca miseria Se per questo parkurio Ok Allora Ok Miseria Uè Mi Porca miseria Oh Non si riesce A fare questo parkurio Entra gli alberi Ok Dove sei? Dove sei? Dove essere là Dove l'ho avvistato prima Dove l'abbiamo avvistato ieri Non lo vedo Qua è dove mi ha ucciso Mi sembra Non lo vedo Dove dire che non lo vedo Aspetta Eccolo Porca miseria Ho mancato Ah Shiftando posso mirare Dannazione Si è nascosto Dove sei? Porca miseria È là comunque È là Porca miseria Si è spaventato con gli spari Eccolo 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 Prendi questo Tom Ti ho mancato Ti ho preso L'ho preso Prendi questo Di nuovo Ti ho preso Oddio No 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 Sto arrivando Oh no Sto arrivando Prendi questo Ma Ma L'ho ucciso così Cioè Non altro Oddio L'ho ucciso Sì L'ho ucciso Sì E vai Spariamo in aria Ce l'ho fatta Ho liberato questo mondo Da questo Miserabile Disgraziato Prendi questo Sì Ce l'abbiamo fatta Oh che bello Oh ora posso tornare in pace Nella mia casetta Boh È stato difficile ucciderlo Madonna È una bestia terribile Ma io con le mie Bellissime armi L'ho fatto fuori Così Tom Con due colpi Di cecchino Devo dire Questo cecchino È epico È OP Veramente Ok Spero vi sia piaciuto Questo video E vi ricordo Di iscrivervi al canale Intanto vado a casa A mangiare un po' di cibo Perché mi sa Tra un po' Ho fame E spero vi sia piaciuto Questo video E vi ricordo Di iscrivervi al canale Che è importante E posso finalmente Abbandonare queste armi E Non so Come le uso Posso usare per caccia Queste armi Sì ma dai È bello Ma dai Aspetta Cos'è sto Cos'è sto Chia Oddio Cosa Ma Ma Quanti sono No 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 Assolutamente No 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 Ah porca mi sei Siamo nel piccolo Porca mi sei questi qui Chi sono No 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 Ah no Ah no Ah no Ah 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 Ah